mi spieghi cosa è amore mi spieghi cosa è dai serve per ma la casa nuova allora ieri abbiamo parlato di peli ma vogliamo parlare dei capelli bianchi ora non so quanto possa centrare la gravidanza secondo me niente secondo me a una certa a una certa me li tengo è fine la storia da quando ho scoperto di essere incinta sto facendo questa tinta completamente naturale però ho visto che non è come la solita che facevo io non si può neanche paragonare va bene, va benissimo però non mi sta mi sta per un mese anzi si vedono molto prima rispetto a quella che facevo prima e soprattutto non li copre benissimo ma restano sempre un po' più marroncini ripeto va benissimo lo facciamo così ce la facciamo andare bene ma credo quando sarà quando potrò farla credo ritornerò alla mia normale tra l'altro mi sa che a sto giro visto che sto andando a Milano appunto per rifarmi la tinta perché è disastro mi sa che rifarò anche un farò anche un tonalizzante solo per le punte perché adesso sono con la luce sono belli belli arancioni quindi magari spegnerò un pochettino giusto le punte ma non voglio cambiarli troppo o Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.